E' il primo in Italia e probabilmente anche in Europa. Stiamo parlando del laboratorio mobile ad alto contenimento biologico presentato questa mattina dall'Istituto Caporal a Teramo. Questa è una struttura che garantisce all'Istituto di poter intervenire in qualunque situazione ci sia necessità di dover combattere degli agenti in malattia, degli animali o di quelli che si trasmettono anche all'uomo, dunque di zoonosi, in cui c'è bisogno dell'alto contenimento, cioè agenti che normalmente non sono presenti sul territorio o che comunque costituiscono un pericolo importante per gli operatori. Questo è quello a cui serve questo laboratorio. E' un laboratorio mobile che pertanto può essere portato in qualunque parte del paese o anche fuori di esso perché è trasportabile, essendo costituito di fatto da tre container di tipo navale sostanzialmente. Si tratta dell'unica struttura di questo tipo per uso veterinario e consentirà all'Istituto di effettuare le attività diagnostiche su campioni di materiale altamente patologico ed esperimenti microbiologici ad alto rischio. Sono dei laboratori che hanno di fatto solo impermeabili, nel senso che quando ci si lavora dentro qualunque agente viene lavorato all'interno di questo laboratorio non esce all'esterno. Contemporaneamente dall'esterno non possono penetrare all'interno e soprattutto ha un sistema in cui chi opera all'interno del laboratorio viene protetto attraverso strumenti di protezione personale tipo scafandri e cose di questo genere, ma viene anche protetto dal fatto che si lavora con determinati tipi di gabbiotti di contenimento degli agenti. Tutto quanto avviene all'interno del laboratorio, ripeto, rimane all'interno del laboratorio. L'aria viene filtrata con dei filtri speciali che ne garantiscono la sterilizzazione, qualunque tipo di liquido che viene prodotto viene sterilizzato e viene allontanato e quindi insomma le persone per uscire, per entrare devono fare delle docce e quindi questo garantisce in qualche modo l'isolamento del contenimento.